Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti in un nuovo vlog flash. Allora, sono seria perché stanotte, come vi ho accennato mio marito nel vlog flash su Ida Limbertis, è successa una cosa veramente molto grave, uno schifo. Scusatemi, mi si era praticamente schiacciato per sbaglio stop. Stavo dicendo che è una cosa veramente gravissima. Praticamente stanotte intorno, cos'erano le mezza, le due circa, praticamente stavamo guardando Squid Game, abbiamo finito di guardare Squid Game, mio marito alla fine si è appassionato e ha deciso di finire tutti gli episodi, quindi eravamo svegli. Non avevo pensato di mettere il telefono, perché io dovrei mettere il telefono spento, cioè non ha senso. Vabbè, comunque fatto sta che arrivano le chiamate. Numero sconosciuto, rispondo. E praticamente niente, la prima telefonata nulla, io rispondo, faccio pronto, pronto, niente, e chiude. Poi dopo circa 10 minuti, richiama, e io pronto, e si sente, non lo so, come un rumore di sottofondo, che non riesco a capire che tipo di rumore fosse, ma la cosa vicida era che a un certo punto la persona che mi ha chiamato, che io non ho proprio idea di chi potrebbe essere, perché comunque non si capiva dal verso, insomma, dal verso che faceva. Il verso era, anzi male. Che schifo, ragazzi, veramente, che schifo. Mi sono veramente incalzata di brutto. Io ne ho dette quattro, e pure mio marito. Poi niente, ha richiamato un'altra volta, cioè, nonostante, cioè, avesse sentito da parte nostra un'incazzatura molto elevata, questa persona qua, questo individuo, che non so chi sia, non ne ho dire perché non posso riconoscere la voce, perché erano versi. Si sente tipo, con un lamento, un piagnucolio strano, non capisco, e poi di nuovo ansimare. Al che, ho detto, basta, cioè, fatti curare, e niente, ho bloccato i numeri sconosciuti, così a me non rompeva più. Dopo mezz'oretta, ha iniziato, ha attaccato a chiamare mio marito. Però con mio marito era proprio silenzio totale. L'ha fatto tre volte, in silenzio, e poi anche mio marito ha bloccato in tutti i numeri sconosciuti. Però capite che non possiamo sempre tenere i numeri sconosciuti, nascosti, perché anche il corriere tante volte chiama col numero sconosciuto. Quindi, faremo così d'ora in poi, di notte e quant'altro, quando andiamo in live già lo facciamo, che mettiamo una data aereo. Però, di notte, adesso metteremo il blocco ai numeri sconosciuti, perché comunque, voglio dire, cioè, non è normale sta cosa. Cioè, io avviso, chiunque ci sia dietro a questo schifo, veramente di smetterla, perché comunque ho registrato la chiamata, l'ultima di quella che, insomma, è stata fatta col piagnucolio e l'anzimamento. E' uno schifo, cioè, che cosa ho voluto ottenere con questo? Non è normale tutto ciò, non ho la minima idea di chi possa essere, e niente. Comunque, è veramente un'indecenza, veramente proprio uno schifo. Mi sa che cambierò il numero di telefono, e anche mio marito, e ovviamente solo, solo poche, poche persone lo avranno, tipo i familiari e gli amici stretti e stop. E nulla, questo è quanto. Vabbè, ragazzi, io vi saluto, e speriamo di non essere più importunata a questo modo. Veramente, fatevi curare.